Hanno ringraziato l'Italia, hanno ringraziato il servizio sanitario del Lazio, hanno ringraziato lo Spallanzani con senso di gratitudine e questo ci fa onore. Erano in contatto da dentro con i parenti in casa loro? Sì, assolutamente sì, attraverso iPhone, telefoni, sono stati sempre in contatto, vengono da diverse province della Cina, non dalla provincia direttamente e maggiormente interessata, quella di Hubei, ma da altre province anche dalla città di Pechino. Per loro è stata un'esperienza che hanno definito straordinaria e lo capisco bene perché da turisti si sono trovati improvvisamente ad essere in sorveglianza sanitaria, ma devo dire che siamo molto soddisfatti per come è andata. Ma non erano preoccupati di tornare, chiedevo anche agli operatori, un po' la domanda se la pone uno, qui erano al sicuro, tornare a casa magari qualche rischio? Beh diciamo però ecco ripeto, stanno in province che non sono quelle maggiormente interessate adesso dalla pandemia del coronavirus e diciamo erano combattuti tra ovviamente come tutti, tra ritornare ai loro interessi, alle loro famiglie e anche diciamo capire lì come era realmente, come si stava evolvendo la situazione. Grazie.